Siamo fotogeniche Siamo fotogeniche Siamo fotogeniche Siamo fotogeniche Sì, sì Siamo fotogeniche 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 Potrebbe farci qualche segnalazione Volentieri Perché insomma a un certo punto penso che sia anche una È giusto Ma lei pensa che ci possa essere qualche cliente che possa essere No, guarda, per ogni uomo dicono c'è una donna Per ogni donna c'è un uomo Ci saranno sicuramente Quindi confido nel suo contributo Sì, metterò una buona parola Da adesso in poi Quando vedo la signora giusta La propongo Buongiorno a tutta Chioggia Oggi ci trovate qui come tutti i giovedì al mercato Con tante novità per i vostri bambini Magliettine a 4 euro Estate Pantalloncini a 4 euro Trovate di tutto qui Ciao a tutta Chioggia Sì, il sindaco c'è una persona in gamma No, per fare il sindaco come vuoi Una persona che sia con la tua vita In questo spiego Buongiorno a chioggia Ciao Andrea Ciao Michele Oggi è una giornata un po' freschezza La gente sta arrivando Speriamo bene Che la gente si muova A parte il problema dei clienti da Volto, Rusolina Sant'Anna, Cavanella Quel problema del Ponte sul Brenta Ralentano un po' Però arrivano Perché la volontà di arrivare c'è E speriamo il bene Speriamo che arrivano anche Sti vaccini verso fine mese Che abbiamo bisogno Tutti Per avere una vita migliore E continuare sempre a sperare Ciao e grazie ragazzi Buona giornata Riprendi con il signore lì Riprendilo Riprendilo Lì dentro apposta mi fa paura Una volta ti dicevi Speriamo che non sia una multa Adesso se sei una multa Ti sei fortunato Perché puoi tese più cari Tocchi Ti hobbi Ah no no Non Non Vi throw No 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 No